weekend in piazza per teleton con la campagna primavera per la raccolta fondi in attesa della festa della mamma e anche stamattina caserta in largo san sebastiano il coordinamento provinciale con la referente melina cortese e i volontari dell'associazione teniamoci per mano lus onda web tv li ha incontrati per voi lei è marita noi siamo tutte delle quali teglia parola e noi siamo la teglia via sì ma che bella la ragazza per mano o lus casetta sì perché quest'anno la vediamo che ci sono le magliette i biscotti vedo la sua raccolta fondi e dal 10 maggio a luglio ci saremo anche noi per le piazze anche la cronterapia sarà per le piazze insieme insieme benissimo ok con la maratona del sorriso che partirà dal 10 maggio eccoci siamo parte del coordinamento provinciale teleton il nostro coordinatore calumino il dottore calumino siamo qui e avanti tutta anche oggi saremo con i biscotti teleton e alla prossima ci vediamo a natale per la campagna di natale ciao ciao